Vale la pena di ripetere quali sono le regole del gioco nel momento stesso in cui pare che ci sia qualcuno che si sia convinto che un governo si forma nel momento stesso in cui si va a votare per questo o quel partito. Le cose non stanno esattamente così. Dunque elenchiamo la procedura. Il 4 marzo andiamo tutti a votare e ognuno di noi sceglierà il partito che preferisce. Una volta fatte le elezioni e una volta venuti fuori i risultati si formeranno le assemblee della Camera e del Senato e ciascuna assemblea eleggerà il proprio Presidente, il Presidente della Camera e il Presidente del Senato. Dopodiché il Presidente della Repubblica inizierà una serie di consultazioni con i rappresentanti dei tutti i partiti politici che hanno partecipato alla consultazione elettorale. Dopo questa serie di consultazioni e dopo aver ascoltato quindi quelli che sono i progetti dell'uno e dell'altro, deciderà in completa autonomia di affidare ad un uomo politico di un partito, di uno dei partiti che hanno partecipato alla consultazione elettorale, di affidare ad un politico la formazione del nuovo governo. Il politico in causa accetterà con riserva questa designazione e si guarderà intorno, guarderà se in realtà lui è in grado con la sua formazione politica e con i suoi alleati della Camera che dà al Senato la fiducia necessaria perché il governo vada in carica, dopodiché se ottiene queste certezze, forma una lista di suoi ministri, si presenta di nuovo al Presidente della Repubblica, scioglierà la sua riserva accettando l'incarico di formare il nuovo governo e sottoponendo al Presidente della Repubblica la lista dei ministri e il Presidente della Repubblica ha tutta l'autorità di eccepire su qualche nome e di pretendere la sostituzione di Tizio con Caio, eccetera, eccetera. Una volta che il Presidente della Repubblica ha approvato anche la lista dei ministri, il Presidente del Consiglio incaricato si presenterà alla Camera e al Senato, presenterà il proprio programma di governo e chiederà di ottenere la fiducia e soltanto nel momento stesso in cui la Camera e il Senato, le due assemblee, gli daranno i voti di fiducia previsti, il governo in questione entrerà in carica. Quindi gli unici che votano nella formazione di un nuovo governo sono i deputati e i senatori. Grazie per la visione! Grazie a tutti!